L'ultima puntata di Ballando con le stelle ha visto uno scontro acceso tra Sonia Bruganelli e Selvaggia Lucarelli, evento che ha animato il programma e scatenato reazioni sui social media. Il confronto tra le due iniziato durante la diretta è proseguito online, dove sono esplosi commenti e prese di posizione tra chi si schierava a favore della Lucarelli e chi della Bruganelli. A intervenire sulla questione è stata anche Rita dalla Chiesa, che ha scelto di difendere Sonia Bruganelli in seguito alle critiche rivolte contro di lei. Tutto è cominciato quando Sonia Bruganelli, concorrente di Ballando con le stelle, ha accusato Selvaggia Lucarelli, storica giudice del programma, di parlare di lei solo sui social a pagamento. La Bruganelli ha dichiarato Se vuoi lo puoi mettere sul tuo profilo a pagamento, così lo racconti, perché più di una volta hai parlato di me, però dovevano pagare per leggere. La risposta di Selvaggia è arrivata puntuale e diretta. Perché? Farsi pagare per il proprio lavoro è un delitto? Io non ho avuto fidanzati o mariti ricchi, quindi mi guadagno da vivere, capisci? Questo scambio ha subito acceso il pubblico, che si è diviso tra chi criticava la Bruganelli per il suo commento e chi invece vedeva nella replica di Lucarelli una difesa delle proprie scelte professionali. La vicenda ha attirato l'attenzione anche di Rita Dalla Chiesa, che ha scelto di intervenire in difesa di Sonia Bruganelli su Facebook, dove ha lasciato un commento in risposta a chi insinuava che la Bruganelli avesse costruito la sua carriera grazie alla fortuna economica dell'ex marito Paolo Bonolis. Le parole di Rita Dalla Chiesa hanno risuonato con molti spettatori e utenti che hanno apprezzato la sua difesa della Bruganelli come una donna indipendente e lavoratrice. Con il suo intervento, Dalla Chiesa ha voluto sottolineare come la Bruganelli sia sempre stata una persona impegnata e autonoma, ben prima di incontrare Bonolis. Secondo Dalla Chiesa, il successo e la stabilità economica della Bruganelli non sarebbero quindi un dono ereditato, ma il frutto di anni di lavoro e impegno. Questo episodio riflette non solo la tensione che può emergere tra i protagonisti di uno show come Ballando con le stelle, ma anche l'importanza di difendere il proprio percorso lavorativo contro i giudizi esterni. Rita Dalla Chiesa ha dimostrato...